Alla Magnetic Days tutti i dipartimenti sono naturalmente importantissimi, però qui siamo in uno dei più importanti, lasciatemi esprimere in questo senso, perché questo è l'ufficio dei coach e perciò qui viene curata tutta l'anima vera del sistema, cioè quello che con Jarvis si può effettivamente fare. Abbiamo Simone Buracchi che è l'ideatore di tutto questo pensiero innovativo dell'approccio all'allenamento con una metodologia scientifica perché lo strumento lo permette, è stato sviluppato di pari passo con quelle che erano le idee, perciò lui è quello che cura i nostri atleti più continua a sviluppare nuove frontiere dell'allenamento. Poi abbiamo Alessandro Corsini, che lui oltre che fare il coach è anche l'esperto in biomeccanica, perciò tutto lo sviluppo di attrezzature che abbiamo fatto e che stiamo continuando a fare in quel senso, perciò l'uso di Jarvis anche come strumento per biomeccanica è tutto frutto delle indicazioni di Alessandro. Adesso proseguiamo in un altro reparto.